Si riparte con legittime preoccupazioni legate ad un'estate trascorsa tra tante notizie legate al futuro del club, i tentennamenti iniziali con l'addio anticipato di Sottil e l'arrivo di Martuscello ed un mercato cominciato con ritardo. Quanto questo ritardo nell'allestimento di una squadra che resta da rinforzare ancora condizionerà l'inizio torneo, lo scopriremo in queste settimane. Dopo una stagione anonima con tante figuracce collezionate, i tifosi si aspettano un campionato decisamente diverso, migliore. Nonostante tutto, oltre 10.000 persone saranno allo stadio per il ritorno in B della Salernitana dopo tre tornei massima serie. Quanto sarà competitiva la squadra Granata? Impossibile dirlo ora a mercato in corso. Alla prima di campionato la Salernitana si presenta incompleta con un solo attaccante di ruolo, simi che la società ha provato in tutti i modi a cedere in queste settimane ma che molto probabilmente resterà in Granata ancora. Giocare al centro di un tridente con un bel po' di fantasia sugli esterni potrebbe servire a rivitalizzare l'attaccante. Se lo augurano tutti anche perché il Cittadella, che da un bel po' di stagioni vive in B, è pur sempre una mina vagante di questo campionato. Per l'esordio alla Rechi Martuscello dovrebbe puntare sul 4-3-3 con la conferma della stessa difesa vista in Coppa Italia, una mediana che farà riferimento sul giovane Amatucci e poi ballottaggio a Legoschi Mamadou Koulibaly. Mentre in avanti i riflettori puntati su verde con la sua esperienza e la sua qualità destinato a diventare il valore aggiunto della Salernitana in attesa di altri rinforzi. Questo è stato il destino proprio.